La vendemmia è un rito che si ripete anno dopo anno con tutto l'impegno e anche l'ansia dei produttori di portare uva sana in cantina e soprattutto di valorizzarla al meglio. Ci fa molto piacere poi ospitare il pubblico, quelli che possono essere i consumatori, gli appassionati, gli enoturisti. Oggi abbiamo un gruppo dall'Estonia, mi è venuto a trovarci, fa molto piacere e abbiamo l'occasione appunto di raccontare il territorio, raccontare l'azienda ma anche proprio di spiegare perché forse la parte più importante è raccontare veramente come si fa il vino, come fa il vino una cantina di qualità, tutto il processo. E vediamo che c'è sempre crescente curiosità, soprattutto dei giovani e anche crescente attenzione e esperienza, insomma sono consumatori sempre più consapevoli. La riscoperta di questo vitigno che è uno dei vitigni più importanti e tradizionali della terra di Puglia, la passione e l'attenzione che i viticoltori stanno adesso ponendo in questo nuovo vitigno molto interessante e soprattutto longevo. Ci permette di conoscere appunto il processo di come viene fatto il vino perché a volte si conosce il prodotto finito però non si capisce da dove deriva questo prodotto. Insieme ai vini ho assaggiato anche prodotti locali, che ne so, formaggi, un mondo da scoprire, una bella iniziativa.